In un certo senso questa vicenda rappresenta in piccolo il traite d'unione tra l'andrangheta, la politica e il settore economico, ed è sintomatica del fatto che i confini tra gli stessi assumono tratti sempre più evanescenti per via del circolo di interscambio tra una parte e l'altra facendo assumere un notevole disvalore a quelle che non può più definirsi una zona grigia essendosi così accentuate le interazioni tra mondo politico, imprenditoria e mafia che sono tali da costituire un'unica commistione. E quanto si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Locri, a curso presidente Loguzzo e Foresta Giudici, che ha condannato a tre anni di reclusione Rocco Femia e che si sindaco della città di Marina di Gioio Saionica, Vincenzo Ieraci e che si assessora l'ambiente della stessa giunta, Domenico Agostino e Salvatore Larosa. I giudici hanno confermato la richiesta di condanna per l'accusa, a vario titolo, di abuso d'ufficio aggravato, formulata dal sostituto procuratore Simona Ferraiolo della DDA di Reggio Calabria. Il PM ha sostenuto che all'esito della giudicazione di una gara d'appalto per la fornitura di alcune decine di palme Washington si sarebbe consentito alla ditta giudicataria di affidare senza alcuna formale autorizzazione, in regime di subappalto, i lavori di scavo necessari per il collocamento delle palme a un'altra ditta del posto. Il procedimento è uno stralcio del maxiprocesso circoloformato che si fonda sulle indagini, sugli interessi del clan di Marina di Gioiosa per le elezioni amministrative del 2008 e successivamente per ottenere vantaggi nel settore degli appalti pubblici. In questa sentenza stralcio di circolo formato per la quale gli avvocati hanno anticipato il ricorso in appello, i magistrati di Locri ritengono che l'affidamento dei lavori in subappalto, pur se di modesto valore, si inserisce in un più ampio raggio d'azione finalizzato all'affermazione della famiglia Agostino e al controllo, da parte della stessa, delle attività economiche della zona. Del resto, si legge subito dopo, l'eseguità dell'importo economico conseguito non consente di sminuire la gravità della condotta, essendo la stessa tesa a incentivare un sistema distorto determinante l'illecito condizionamento del libero mercato da parte dell'associazione mafiosa e finalizzata all'impostazione della ditta in questione. L'affidamento dei lavori in subappalto, scrivono ancora i giudici, deve essere valutato nel complesso sistema che si è creato a Marina di Gioiosa prima delle elezioni e durante l'amministrazione, caratterizzato da un rapporto tra amministratori da un lato che hanno beneficiato del sostegno elettorale delle cosche e l'imprenditoria dall'altro che sono stati così abilitati a percorrere una corsia preferenziale nell'affidamento degli appalti.